Un mezzo agricolo si è incendiato nel pomeriggio di venerdì 28 giugno, mentre si trovava in mezzo ad un campo a Riva Rossa. L'allarme è scattato poco dopo le 15. Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di San Maurizio Canavese, Mati e Torino. Le fiamme, oltre ad avvolgere il trattore, hanno divorato l'intero campo. Nessuno è rimasto ferito o intossicato. Nessuno è rimasto ferito. Nessuno è rimasto ferito. Nessuno è rimasto ferito. Nessuno è rimasto ferito. Nessuno è rimasto ferito.